ecco toni vedi sull'inneschi possiamo anche mettere questi due prodotti come vedi è uno color bianco e uno color marrone ecco quello color bianco si illumina di notte con una normale pila diventa luminoso mentre l'altro che useremo ora di giorno ecco ha un effetto luminoscienza perché sfrutta i raggi del sole e quindi oltre a dare un'aromatizzazione perché abbiamo due tipi di aromi al gambero e al pesce da anche una sorta di segnalazione di dove è l'esca il prodotto si chiama il luminor sono diversi anni che noi lo commercializziamo e in questo caso lo utilizzeremo per la pesca a volentino ecco qua si svita normalmente il tappo e naturalmente si spalma ecco in questo caso sull'esca ecco qui in questo è un gel molto denso ecco lo possiamo utilizzare anche poi puntandoci feromoni sopra ecco qua ecco l'effetto in acqua sarà una scia luminosa che quando calerà e arriverà sul fondale spargerà il gusto del gambero e farà una sorta di segnalatore